E sono tosse. Sì, certo. E la Terra è piatta. Fate le vostre ricerche seriamente. Attraverso il sito web tinelli.eu, scorrendo il menu a tendina in alto a destra, trovate il fornitissimo indice alfabetico per approfondire le vostre ricerche e capire perché ci hanno e perché continuano a mentirci. Analizzare i grandi inganni della NASA, della ISS, dello SpaceX, comprendere come funzionano le maree, o scoprire l'impossibilità delle crisi che già duemila anni fa gli antichi sapevano prevedere con certezza con l'antica Terra e che i calcoli della NASA per le crisi sono stati stilati da Fed Espenach. È più facile essere ingannati che accettare di essere stati ingannati. Ma una volta scoperta la verità, si ritrova anche la libertà per svincolarsi dal sistema corrotto di chi, iniettando la paura, decide per voi. Grazie. 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 Grazie a tutti.